allora benvenuti al chiacchiere da barda milano finalmente siamo qui in un appartamento dove siamo atti vagamente? sui navigli possiamo dire sui navigli però un pochettino più defilati no? sì 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 non è il naviglio grande è un naviglio non diremo il nome per ragioni di privacy o perché non mi ricordo io il nome di questo naviglio però una roba più più no non voglio dire hipster perché già mi incasino su dinamiche hipster o quello che è è una roba più dimenticata dei navigli no? più umana più umana meno turistica più umana meno non posto meno aeroporto esatto esatto cioè è più una caratteristica di local possiamo dire pur non essendo noi local cioè probabilmente cacciari non vive qui però c'è tanta gente normale anche troppo normale attorno o quello che è prima che iniziamo ho pensato di chiederti una cosa come ci si sente a essere chiamati tipo talvolta atti e talvolta enrico cioè nel senso per esempio a me chiamano fabrizio o fabbri crea un complesso di identità strana cioè come funziona? perché voi dovete sapere che enrico atti molto spesso viene chiamato atti e tante volte viene chiamato enrico come ci si sente? posso parlare per me nel senso non vale in assoluto la regola del nome cognome però per quanto mi riguarda essere chiamato per cognome è un po' l'abitudine ma essere chiamato per nome per quanto a volte faccio un po' strano insomma fa parte dell'essere me stesso e del chiamarmi enrico quindi non fa poi la fine particolarmente strano ecco quando è iniziata questa cosa di atti e di enrico? beh credo alle scuole medie fino alle elementari avevo questo nome enrico che copriva un po' tutto e quindi ero enrico per tutto e per tutti alle medie è arrivato il cognome atti con il quale poi potremmo dire mi sono felicemente accasato in un qualche modo però ci ho fatto l'abitudine mi ci trovo bene come dicevo ma come è arrivato alle medie? alle superiori atti? alle medie già qual è stata la dinamica? ma boh non ricordo bene diciamo che alle elementari la dinamica era che se c'era un qualcuno col tuo stesso nome si usava il cognome per identificare quindi nel mio caso ero l'unico enrico e alle medie boh è sboccato un po' sta cosa non lo so forse non lo so se era più da caserma però anche altri ricordo che anche venivano identificati con il cognome infatti è una domanda stupida anch'io ero identificato il cognome per un bel po' però non è durato così tanto è quella la differenza con te è durato a livelli in cui anch'io ora oggi fino ad oggi io ti chiamo atti spesso quando ti chiamo enrico cerco di connettere atti per me è qualcosa di riflessivo mentre enrico cerco di connettere con le intimità ti capita la stessa legge delle persone che ti conoscono enrico vuol dire tipo enrico aspetta voglio connettere qualcosa di più vicino e atti invece più sbrigativo? beh sì a volte cercare di approcciare con enrico è un po' più più un tentativo intimo al di là di tra virgolette chi se lo può permettere e chi no però a volte è anche un come dire un modus operandi dell'ambiente del settore cioè in alcuni anche settori professionali a volte magari si parte ok ci si chiama per nome per creare questo ambiente come dire familiare e quindi divento enrico henry al di là di chi anche henry? sì 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 perché magari in certi ambienti un po' professionali così si cerca di rendere più vicini quindi si passa all'utilizzo del nome mentre in realtà forse sarebbe più vicino all'utilizzo del cognome vedi questa è una regola non assoluta il fatto che in certi ambienti si tende ad utilizzare il nome ma a volte non è il nome che avvicina le persone ecco ho capito benissimo però a livello personale se puoi individuare una differenza che effetto ti fa prima henry dopo enrico e poi atti quali sono le differenze di recezione da questo punto di vista? ma eh dipende dalle persone sì dipende dalle persone però a volte non so per esperienza un po' henry mi sembra utilizzato da persone che in realtà non hanno questa vicinanza e cercano di crearla utilizzando atti per quanto molte volte sia la cosa che si sente più dire di me quindi la più facile da utilizzare però a volte quella che più esprime una reale vicinanza quindi atti esprime più vicinanza di enrico sì 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 poi come diciamo prima dipende da chi dal contesto da cosa eccetera però molto spesso enrico henry è utilizzato da qualcuno che cerca una vicinanza che in realtà nei fatti c'è meno che un atti espresso dalla persona giusta al momento giusto a me quando mi chiamano fabrizio le persone che sono vicine a me mi fanno calare un senso di serietà che ho paura mentre quando mi chiamano fabri è una cosa più leggera c'è più come dire sopportazione amore quello che chiamano fabrizio è un momento di serietà lo sento tipo come una spada di damocle ogni volta poi naturalmente può cambiare a differenza di chi lo dice però più o meno è questa la cosa atti milano milano io qui per una volta me la gioco qui poi per qualche puntata non me la gioco più risponderò con una domanda che me l'ero preparata però in realtà me la sono preparata in maniera onesta perché me la sono fatta a me stesso e mi sono dato una risposta onesta quindi la farò a te subito milano in una parola cosa mi dici? oddio questo è il problema di la cosa bella di questi podcast è il fatto che noi non sappiamo quello di cui parleremo quindi quando tu mi fai una domanda del genere da una parte mi eccita assolutamente perché voglio darti una risposta che è una domanda del cazzo e lo so sono ben conscio ma non tutte le domande del cazzo danno risposta al cazzo questa è una domanda del cazzo che può dare una bella risposta e questo l'hai imparato da me eh sì io faccio tante domande del cazzo da tante persone però allora Milano Milano in una parola non lo so uomo ho impressione che potrò darti questa risposta alla fine del podcast al podcast perché voglio essere sincero la possiamo tenere lì? l'accetti? l'accetto a posto la teniamo lì io ti dico la mia sì ti racconto me la sono fatta appunto mi sono detto però adesso faccio una domanda mi devo anch'io dare una risposta e la risposta più banale che forse potesse saltare fuori ma è Duomo però la spiego mi prendo il tempo no? qui ce l'abbiamo tutti sposta banale banalissima però la spiego perché io se ricordo bene anche qui vado a vangare i ricordi famiglia è la prima volta che sono andato a Milano e anche qui i ricordi si fanno un po' nebulosi è terza media prima superiore 14-15 anni gita scolastica quelle gite in giornata spiego anche qui io sono della provincia di Ferrara Barra Bologna secondo il lato che si vuole dare quindi come dire la distanza che si può fare in un viaggio in giornata in cui si parta la mattina si visita alcune cose si torna alla sera tardi panino senza dormire fuori panino pranzo fuori e secondo me è stata quella la prima volta che ci siamo affacciati al Milano e per noi adolescenti poco più era una gita come un'altra per quanto il nome di Milano avesse già insomma una sua importanza Milano in che senso è importante? è importanza perché Milano la vedevamo come una città banalmente perché era appassionato di calcio la città del Milan e dell'Inter più importante di Bologna? sì 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 più grande di Bologna? sì sì per quanto noi sotto Bologna al di là del fatto che ci fosse chi vivesse in provincia di e chi ne vivesse la provincia morale tra virgolette se vogliamo però Milano è una grande città e come dicevo al di là del fatto di chi ti fosse Milan chi ti fosse Inter però Milano era vista come la seconda città d'Italia e la capitale del nord capitale morale capitale morale del nord comunque insomma per noi Roma era ancora molto lontana ma anche per un dato proprio fisico perché all'epoca insomma non c'era all'alta velocità e quindi banalmente andare a Roma adesso Roma è più vicina sono cambiate le cose quindi per noi questo viaggio a Milano era come dire andare che anno era? 98 99 però fine anni 90 quindi anche un contesto se vogliamo aspettate ragazzi quindi lo stesso anno in cui c'era quella foto lì che abbiamo pubblicato nel penultimo podcast probabilmente stesso periodo? un po' dopo quella foto lì però se vogliamo non troppo anni dopo qualche anno dopo ok prego e quindi insomma questo viaggio qui primo approccio verso Milano e alla fine una delle prime tappe è il Duomo che è sempre spaventoso comunque è imponente anche adesso quando ci vado insomma con tutta la mia vita alle spalle che sia poca che sia tanta però questa cosa è imponente questo spiazzo gigante e ti dà un'idea veramente di piccolezza proprio ai suoi confronti ecco al di là di quello che può rappresentare però è forte è forte sì per noi nella Sardegna dei stessi anni il Duomo era associato alla corona ferrea di una principessa medievale non mi ricordo non so nulla non voglio dire stronzate quello che è però c'era questa corona ferrea associata magari alle tribù barbare o quello che è che era custodita lì e questo non voleva dire nulla per noi perché sostanzialmente non riuscivamo a capire la mole della città da una corona però avremmo capito la mole di una città quando avremmo visto per la prima volta la mole del Duomo che come hai detto tu è gigantesca quindi anche per una persona che è abituata a un'architettura favolosa dell'Emilia di Bologna o quello che è nonostante tutto Milano avrebbe rappresentato dopo l'aspettativa per la città perché tu eri già vittima dell'aspettativa della città probabilmente in più il piazzone col Duomo gigantesco bellissimo cos'altro c'era all'epoca di ingredienti che facevano sembrare questo Duomo irraggiungibile o quello che è c'era roba politica? no sul Duomo forse è più l'immagine che il resto però ricordo insomma il fatto all'epoca di mangiare a un McDonald's adesso ci fa ridere la cosa perché pochi minuti fa abbiamo scampato il fatto di mangiare a un McDonald's ma all'epoca un po' vuoi l'essere adolescenti vuoi l'essere alla fine degli anni 90 era visto come un bagno nella modernità un bagno nel come un post burghie si 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 e quindi l'idea alla fine di questo mangiata promesse perché comunque l'america alle superiori la libertà è limitata quindi comunque se si vuole mangiare in un posto il professore deve essere d'accordo a consentire portare tutti quindi il fatto che si 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 potete mangiare al McDonald's per noi è stato e per me è stata la prima volta alcuni avevano già mangiato al McDonald's di Bologna per me però 15 anni è stata la prima volta per gli altri probabilmente è stata 13 14 in viaggi in motorino in autobus e quindi non tanto in set per set questo panino queste patatine però insomma questa non so l'aspettativa assaggiare questo pezzo di modernità ecco per quello che per noi si libertà e modernità per quello che a noi all'epoca sembrava è stato veramente un tocco di qualcosa che non so come dire non so se dire assoluto comunque non avremmo mai potuto avere da un'altra parte quindi in realtà post paninare si 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 già post paninare il mondo paninare insomma fa un po' riferimento agli anni 80 noi eravamo già in questa epoca in cui fine anni 90 però ne prendevamo da adolescenti probabilmente di tutta la nomea di tutta la scia che si era creata con il movimento paninaro eccetera però al tempo stesso aveva una forza grandissima questo mito questa idea di Milano in galleria abbiamo mangiato il mcdonald in galleria e tuttora oggi io posso dire questa cosa un mcdonald che ha chiuso il primo mcdonald in Italia che ha chiuso 3-4 anni fa non mi ricordo esattamente e tuttora posso dire di aver mangiato lì e non è banale non è scontato cioè a suo modo è stato un simbolo e in quegli anni aveva una forza altissima che si riflette tuttora nel mio passato di poter dire per quanto fossero magari un panino scrauso beh però l'ho mangiato nel primo in Italia tutto questo entusiasmo che avevo condiviso pure io quando avevo aperto il mcdonald il ritardo in Sardegna quello che è quindi la curiosità per la novità poi la successiva amarezza politica tutte queste cose qua e poi il ritorno il ritorno nel senso che mcdonald non avrebbe più rappresentato quell'idiosincrasia che avevo all'inizio perché sarei cresciuto e avrei avuto le mie idee che sarebbero cambiate cosa ne pensa Latti di tutta questa campagna anti mcdonald che probabilmente non è più attuale non è più attuale questa campagna anti mcdonald cosa ne pensa lui nel 2021 a 20 anni 22 anni da quell'esperienza lì avendo sentito tutte le evoluzioni sul fenomeno mcdonald cosa ne pensa lui adesso prima di tornare a Milano di nuovo sì 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 quindi spostandosi da Milano e più in generale su come dire mcdonald italia spa non so neanche se si chiami così credo si sia esagerato e spinto molto nel senso che senza voler dare un giudizio su mcdonald mcdonald in italia quello che è stato fatto in italia però non ho mai concepito le campagne del boicottaggio contro boicottiamo il mcdonald boicottiamo i mcdonald in italia perché nello specifico mi sono sempre chiesto ma ok questa esposizione verso questo tipo di azienda in realtà però se non si va a mangiare lì dove si va a mangiare conosciamo quello che andiamo a mangiare in un altro tipo di azienda simile similare cioè è una battaglia di bandiera o è realmente una battaglia contro un determinato tipo di di approccio aziendale aziendalista di approccio lavorativo con i dipendenti eccetera eccetera insomma e secondo me troppo spesso è diventata una battaglia di bandiera in cui ok vaffanculo il mcdonald però poi andiamo a mangiare dal paninaro sotto casa e quanto sappiamo del paninaro sotto casa cioè le stesse cose che avevamo criticato al mcdonald giustamente o ingiustamente stiamo facendo la stessa analisi sul paninaro sotto casa e tra l'altro al di là del paninaro sotto casa che è una realtà privata non importa potrebbe essere come il mcdonald però non c'era un po' di voglia di anti-atlantismo sì molto molto c'era molto questa ondata quando lo fanno in scandinavi con ikea o quello che è va bene sì esatto esatto e tra l'altro in realtà insomma ripeto non voglio ne schierarmi da una parte all'altra però per certi aspetti mcdonald in italia perlomeno quello che conosco ha fatto tante cose positive magari ne ha fatte altrettante o sicuramente le ha fatte altrettante negative non lo so però non è il diavolo ecco da quello che ho avuto come esperienza eccetera quindi ho visto molto come dire un attacco come dire ipocrita sì ipocrita comunque per partito preso senza una reale analisi di quello che sono state gli approcci le cose fatte dette quindi per certi versi da quello che dici tu è prima di tornare a milano tra l'altro l'unico modo in cui può sopravvivere una critica a mcdonald è qualcosa di totalmente radicale che deve abbracciare tutto no? sì sì credo tu bisogna guardare nel bene e nel male quello che ha fatto mcdonald in italia fuori dall'italia una critica verso la multinazionale sì in genere tutti sono dentro sì sì non si possa prendere un episodio un elemento e iniziare ad attaccare da quel punto di vista lì ma bisogna guardare tutto nell'insieme e anche riconoscere dove magari mcdonald nella media magari nazionale bassa ha fatto bene ricordo una campagna di qualche anno fa insomma in cui mcdonald non mi ricordo si faceva vanto forse di di aver boh pagato gli stipendi riconosciuti le cose che è sbagliato perché è una base non devi farci vanto cosa intendi cosa è successo? adesso potrei sbagliarmi qualche anno fa mcdonald fece una campagna in cui utilizzò come dire come promozione di se stessa il fatto di essere una delle aziende che pagava più regolarmente gli stipendi o comunque che faceva fronte agli impegni presi con i dipendenti adesso sono un po' generico perché non ricordo bene che è successo quindi è qualcosa che a parte della base del rapporto contrattuale di cui non dovresti vantartene perché è la base quindi da questo punto di vista qui sono contro il fatto di partivanto di cose che dovrebbero essere la base del rapporto però è vero che nasceva da un fatto cioè dal fatto che effettivamente avessero fatto fronte a certe cose e tante altre aziende anche multinazionali non l'avessero fatto quindi lungi da me il fatto di approvare il fatto di vantarsene però è vero che comunque se guardiamo un certo tipo di impegni nei confronti dipendenti mcdonald non è assolutamente l'ultima in classifica anzi quindi da questo punto di vista qui mi ha sempre come dire lasciato un po' perplesso l'idea di vedere il diavolo e mcdonald quando magari come dicevo prima l'italiano sotto casa che poi è una categoria a parte ok ne potremo parlare e ne parleremo sicuramente in altri pipponi di podcast però non è sempre così automatico che ci sia il cattivo che viene dall'america e il buono sotto casa che purtroppo il mondo non è così a meno che non ci sia un'integrità di valori radicali beh sì se la mettiamo sullo stesso piano però esatto bisogna proprio arrivare a porle tutto sullo stesso piano e noi due non lo siamo non siamo così non abbiamo gli strumenti per poter arrivare le esigenze come possiamo riallacciarci al fatto di una come dire di un'analisi totalmente realistica di mcdonald e milano nel senso possiamo riallacciarci all'idea di milano che affronteremo adesso nel podcast scusate sembra un po' troppo formale quando parlo però possiamo riallacciarci alla relatività del fenomeno mcdonald giustificandolo con una milanesità che mette il business al primo posto con un'eccellenza italiana ripeto possiamo giustificare questa lettura di mcdonald in quanto non necessariamente negativa nella visione di una milano che favoreggia il business e che in certi versi magari distrugge il mito dell'ipocrisia del fatto che il mcdonald potrebbe essere forse una di quelle poche compagnie che merita il disprezzo non so se mi faccio capire atti aiutami come possiamo ricongiungerci a milano da questo punto di vista io credo che mcdonald abbia centrato quello che aveva già centrato negli stati uniti quindi un bisogno un'area in cui si creava una una necessità o è stato indotto anche però a volte è anche difficile capire qual è la cosa qual è il bisogno e qual è il bisogno indotto è difficile capire nel marketing quale viene prima a volte e quindi si è creato come dire questo bisogno di questa realtà da pomeriggio perché è nata più o meno così penso ai paninari quel movimento quindi in questo mi ricollego a Milano in cui non c'era una risposta italiana non è che mcdonald ha rubato ha preso si è inserito in un business in cui il pomeriggio non esisteva qualcosa per i giovani italiani in cui a un costo limitato definito trovare un passatempo un luogo al chiuso al caldo ma poi ha riempito secondo me un vacuum di realtà che soltanto Milano a livello esagerato a livello di caricatura Milano avrebbe potuto riempire perché Milano a mio avviso rappresenta una città che è la città più cosmopolita e più aperta come dire ai stimoli esteri dell'Italia e mi rendo conto che magari non conosco altre realtà magari siamo nel 2021 magari mi rifaccio una realtà vecchia che è quella del luogo comune di Milano però Milano rappresenta qualcosa che abbraccia l'esotico non abbraccia soltanto l'esotico per amore di business ma abbraccia l'esotico in una passeggiata in una via noi abbiamo fatto una passeggiata poco fa noi è la prima volta siamo finiti ai navigli più di una volta abbiamo visto persone che come dire a livello di connotati appartengono magari a realtà asiatiche realtà nordafricane o quello che è con l'accento milanese e io devo dire che questa cosa qua non voglio fare la figura del pdino del cazzo perché il pd sostanzialmente non mi dice nulla al di là della battaglia che vuole fare però in Italia per me l'assorbimento generazionale di etnie vuol dire progresso perché? perché vuol dire che riusciamo a coesistere in una maniera che ci apre le idee quando dobbiamo andare a votare adesso il problema è che quando noi andiamo a votare se andiamo a votare nel sud o andiamo a votare in Calabria o a Roma o in realtà anche vernacolari del nord noi siamo troppo abituati a vedere la nostra faccia proiettata in quelli che camminano per strada noi dobbiamo essere abituati a vedere le diversità se vediamo le diversità per strada siamo più pronti a essere uniti da questo punto di vista o no? assolutamente guarda forse vario un po' il discorso però è questo il senso del nostro podcast di divagare sono chiacchiere da bar quindi come al bar però non penso di avere divagato no 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 però sono io che sto divagando in questo momento tu eri assolutamente centrato io apro una parentesi che forse non è neanche divagare rimanere nel tavolino quello che avevamo a fianco nella birra che ci siamo vivuti questa mattina sui navigli c'era questa ragazza mi sembrava argentina ma potrebbe anche essere comunque di un altro paese di lingua spagnola con questo ragazzo che mi sembrava milanese o comunque insomma dell'interland di Milano come si dice e mi è sembrato il tipico appuntamento che nasce da un contatto su Tinder o comunque da una app di dating ed è un mondo favoloso è un mondo favoloso perché innanzitutto io sono un po' amante di queste situazioni non voglio fingermi antropologo perché non lo sono però mi è sempre piaciuto osservare il mondo dall'esterno magari non avendo le competenze per farlo però mettendomi lì a guardare queste figure personaggi che interagiscono in un mondo o nell'altro e lì ho proprio visto queste due persone poi magari non era la prima volta che si incontravano questo non lo so però mi è sembrato questo primo incontro ed è comunque stupendo sempre vedere come ci si possa come dire incontrare in questa maniera anche perché da un lato mi ricordo un po' gli scacchi non so come dire quei momenti in cui due giocatori e due adattati si affrontano e possono dire tutto il contrario di tutto perché nel primo incontro non c'è una controprova io posso anche dire delle cazzate posso dire la verità però è tutto come muovi quelle pedine poi da lì in poi arriveranno i fatti aspetta penso di aver capito quello che hai detto l'analogia degli scacchi è che fare che abbiamo due culture totalmente diverse e quindi il nemico non conosce minimamente quello che può fare l'altro siamo estremamente nel gioco nella comunicazione siamo in un momento che è totalmente esclusivo di comunicazione perché non abbiamo due italiani che giocano a scacchi abbiamo esatto giusto? esatto esatto e in queste fattiche appunto che lo cito ora perché rispetto a una realtà magari di provincia italiana si condivide molto di più e quindi non è più una battaglia alla pari da un certo punto di vista però insomma o perché ci conosciamo o perché condividiamo molte cose invece qui come dire il milanese con l'argentina si parte alla pari quasi ed è secondo me un contesto che si può verificare in una realtà forse anche in altre però è molto più facile che si verifichi in una realtà come Milano assolutamente e si crea questo contesto che è bellissimo in sé per sé l'idea di qui magari nasce niente cioè nel senso finito l'aperitivo ci saluta e finisce lì magari nasce altro ma al di là di quello che può nascere già soltanto questo scambio secondo me è uno scambio positivo in cui la tecnologia tra l'altro rende possibile qualcosa in più sono totalmente d'accordo l'impressione che possa capitare a Milano in un turismo anticiclico può capitare tutto l'anno e Sicilia capiterebbe magari in estate con tutti i propri limiti a Roma magari diversamente in questo posso anche raccontarti un po' a Roma magari diversamente però a Milano come hai detto tu ho l'impressione che abbiamo a che fare con una realtà che è quasi quasi nelle critiche della città in cui entreremo tra poco adesso entreremo nella critica della città nel senso geografico nel senso estetico quello che è nei stereotipi più assoluti di Milano che gli ascoltatori italiani conoscono e che magari arricciano il naso già su Milano però prima di entrare su queste cose a livello di demografia milanese secondo me è totalmente ragione una persona che affitta a Milano e sta a Milano tutto l'anno si apre a delle realtà come dire rivolte verso il mondo in Italia assolutamente sì credo che si sia un po' forzati perlomeno per una certa fascia anagrafica di persone a guardare oltre ad avere a che fare con delle realtà diverse poi per noi insomma la De Angeleta un po' prima a Milano è sempre stata questa idea di business sia una canzone di Darjand Amico rapper se vogliamo atipico perché è anche un po' melodico un parogliere che in una frase dice per Milano no scusa per per l'Italia l'Europa per l'Europa l'Italia in cui indica molto semplice in cui in queste parole insomma per noi italiani Milano viene vista come come dire un avamposto un avamposto dell'Europa mentre per il resto d'Europa in Milano rivedono un po' degli archetipi insomma delle caratteristiche dell'Italia per quanto non sia assolutamente il posto degli spaghetti della pizza del mandolino però probabilmente puoi trovarci tutti questi puoi trovare la pizza il mandolino e gli spaghetti ricollegandoci a quello che hai detto tu è verissimo a Milano tu puoi trovare tutto il meridione tutto il mezzogiorno e tutto il nord puoi trovare di tutto però ho detto bene siamo relegati a una condizione in cui siamo relegati a una condizione in cui è la punta dell'Italia e l'Italia si porta dietro sempre tutti questi pregiudizi qui ho parlato con delle persone che mi sono vicine e mi sono reso conto nella vita quando sono stato a Londra ho stato in giro per il mondo ma non per il mondo sono stato in giro in certe realtà che mi sono reso conto che nonostante tutto Milano rappresenti nominalmente e anche a livello di esperienza il fatto che sia la capitale della moda noi italiani non trasmettiamo questo fatto qui e devo dire che i francesi lo trasmettono più di noi come dire c'è un divario in quello che è riuscito a trasmettere Milano nell'industria e nell'eccellenza della Milano post-industriale del terziario e di tutte le eccellenze italiane che molto spesso hanno avuto a che fare con Milano in cui c'è un divario ancora oggi tra quello che noi esportiamo quello che noi promuoviamo con la realtà di tutti i giorni quando ti fai una passeggiata io personalmente per quanto mi vesto non penso di essere un modello da seguire a livello di sperimentalismo non sei un'influencer non sono un'influencer però mi rendo conto che si vestono meglio i francesi dei italiani nonostante la capitale della moda sia a Milano cosa ne pensi di questa cosa qua sto divagando no no qui è centrato secondo me un discorso importante di un'anima diversa che abbiamo noi italiani alcuni paesi e qui prendo proprio in primis la Francia e l'Inghilterra c'è la capitale che è bene o male guida faro in cui tutto deve un po' assecondare o seguire comunque i trend della capitale perché è una forte presenza Parigi sulla Francia forse un quarto degli abitanti un terzo insomma Londra sull'Inghilterra un terzo forse qualcosa di più invece Roma ad esempio come popolazione come influenza se la contende con Milano se la contende in che senso con influenze diverse approcci diversi però come dire in Italia non è l'unica guida Milano è se vogliamo capitale come hai detto tu dal punto di vista dello stile dell'influenza e Roma invece su altre cose quindi da questo punto di vista qui abbiamo una città che detta una guida ma non assoluta su un certo numero di persone su un certo numero di cose ma fatti fare una domanda diretta nonostante tu abbia detto una cosa sensibile da questo punto di vista la domanda diretta è questa noi siamo stati in Italia abbastanza abbiamo visto abbastanza italiani all'estero per capire qual è il culto dell'individualismo a livello di moda è la totale come possiamo chiamarla il pecorume cioè noi rappresentiamo al giorno d'oggi abbiamo una città abbiamo una macchina qua che può rappresentare un un baluardo della moda poi che la moda sia riservata ai ricchi o quello che è un altro discorso però abbiamo questa nomea abbiamo questa nomea che non sappiamo calzare è il fatto che noi oggigiorno facciamo una passeggiata da Palermo a Milano da da Cento a Torino e vediamo sempre le stesse come dire combinazioni di moda piuttosto omologate devo dire e ci siamo dentro pure noi due io non mi sto non sto facendo un discorso snobbista io sono parte di questa realtà probabilmente però mi rendo conto che abbiamo ho l'impressione Atti che abbiamo una potenzialità industriale creativa o quello che è ma la vendiamo più all'estero che in Italia la diversità della moda vendiamo di più delle idee che acquisirle noi stessi e può essere questo può essere non saprei c'è un tanto secondo me che generiamo come idee come cose ma poi nel quotidiano a volte si appiattisce molto lo stile e forse rimaniamo più vittima di una linea base media a cui dobbiamo omologarci per convenienza per economia per mille motivi che rispetta quello che potremmo potremmo fare infatti anche il discorso come dire l'Italia si è famosa per la moda e per lo stile per il design per molte cose però fino a un certo punto cioè da un certo punto di vista come dire ok se pensiamo non so a Versace Armani grandi stilisti grandi stili ok però su un tipo di moda non saprei se il termine giusto è pret-a-porter o comunque più 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 casereccia più da più alla portata di tutti e forse in questo ci vanno più vicino altri paesi nel saper come dire concretizzare quell'idee quella tipologia di però renderla a un livello in cui ok non devo pagare un vestito a 150 euro ma posso trovare un vestito semplice da comprare a 30-40 euro quello che è e farlo e portarlo per una stagione o due stagioni quello che è utilizzarlo adattarlo e quindi in questo come dire un'idea italiana un pensiero italiano però è più concretizzato da altre nazioni hai detto bene ho l'impressione da come dici tu che altre nazioni abbiano riempito la classe media delle dinamiche di moda di quanto l'Italia si rivolge a un target con i soldi molto più niche o quello che è però come dire alla fine prendiamo anche la Francia così io mi ricordo noi abbiamo passato degli anni in Inghilterra o quello che è quando guardavamo un italiano per come si vestiva lo individuavamo piuttosto in fretta il francese era ok sto approssimando naturalmente però il francese si differenziava dall'orlogio dal gusto della giacca era più hipster prima di noi prima che noi avessimo scoperto il fenomeno hipster cioè noi siamo in un livello in cui abbiamo questa minoranza come dire che sarà sempre là c'è questa minoranza con i soldi dei palinari di prima delle altre dinamiche sociali che abbracciano sempre una minorità però sostanzialmente ci vestiamo tutti un po' uguali in una maniera piuttosto piuttosto polsa c'è il tizio con la maglietta lo sciarpone sì 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 beh la giacca bidone del rusco come si dice dalle mie parti con questo Moncler sì 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 questo Moncler ma proprio estremizzato luccicante appunto com'è il colore dei sacchi neri dell'immondizia hanno molto sì sembra che tipo i sedicenni abbiano fatto i soldi non importa che erano 55 hanno il SUV e hanno tipo il jeans e il Moncler cioè sembra che noi giochiamo a questa eterna rincorsa di uno stile che è sempre omologato alla fine che tra l'altro non è neanche identificativo ovvero comunque uno stile che possono avere i cinquantenni come i ventenni come che tra l'altro proprio alla fine va a identificare la provenienza italiana più che altre cose e questo è un peccato perché alla fine sembra che nonostante abbiamo questo carico di produttività creativa che fa competizione col mondo alla fine ragioniamo sempre con quelle dinamiche in cui io devo mettere quel Moncler quel jeans per farmi riconoscere in quanto ricco dall'altra persona mi sembra di di essere in un mondo di nuovi ricchi in cui vale più la moneta di comunicazione per quello che ho fatto che per il gusto il gusto non va comprato alla fine il gusto è un lavoro come ci siamo detti oggi che è trasversale rispetto al reddito o quello che è e penso che l'Italia da questo punto di vista nonostante mi fa male dire così abbiamo abbiamo tanto da imparare alla fine uno vada un po' a slegarsi da quello che è il mondo il gusto tra virgolette vecchio di tutte queste cose della del Moncler senza nulla togliere al giubbotto in sé per sé però insomma questo stile vecchio quando uno come dire abbandona questi canoni vecchi del del giubbottino del pantalone della cosa e prende i propri che magari non sono anche propri ma sono magari di una di un nuovo gruppo di persone di un nuovo ambiente però comunque non sono più quelli vecchi standardizzati di un qualcosa di prestabiliti in un certo senso e da lì in poi va bene tutto cioè al momento in cui si abbraccia qualcosa di nuovo che sia un diverso tipo di giubbotto o un diverso tipo di maglietta va bene tutto nell'ottica in cui si sta affrontando qualcosa di nuovo qualcosa di diverso che non è dovuto a canoni prestabiliti di prima ma sono canoni spero personali o comunque dove si va a affrontare un gusto personale un'identità personale che si va a scegliere di un abbigliamento o qualcosa ma non c'è più un canone preimpostato di un determinato gruppo di persone ma qualcosa di proprio abbiamo molto da invidiare ad altre realtà vicine limitrofi nel senso che noi come dire allora facciamo una domanda facciamo una domanda cosa abbiamo noi cosa quale altra città a noi io vengo da io sono cresciuto a Cagliari tu sei cresciuto a 100 qual è la città che ci può dire che possiamo essere noi stessi di più di tutte in Italia questa è una bella domanda con un po' di approssimazione non perché l'argomento di questa puntata però sicuramente Milano si avvicina più di tutte a quella che può essere la città dove ci possiamo sentire noi stessi il che non vuol dire che lo sia però ci si avvicina sicuramente più di tutte da quelle che posso dire così al volo Bologna per certi aspetti può essere un'altra città dove ci si può avvicinare a questo livello di emancipazione personale per quanto Bologna poi abbia una serie di caratterizzazioni un po' non dico macchiettistiche si può dire poi macchiettistiche boh comunque se dovesse dire una città continuerai a dire Milano ripeto non perché è il titolo di questa puntata ma perché ha le caratteristiche per per dire che sia una città dove uno può cercare di essere a se stesso cercando di mettere da parte preconcetti pregiudizi come dire la sensazione quando tu fai una passeggiata per Milano vedi tante nature di persone vedi generazioni di extracomunitari che hanno già l'accento milanese vedi tutte le tutte le realtà sociali le vedi in una via praticamente tutte assieme vedi la persona che non ha i soldi per andare avanti con la giornata vedi il bar vedi l'extracomunitario vedi la persona con i soldi che cammina a due centimetri da tutto il resto vedi l'avvocato vedi il fotografo vedi l'ipster vedi tutti in una in una via vedi tutti questo per me è progresso perché? perché l'unico modo in cui possiamo stare assieme secondo me è quando siamo a contatto ravvicinato con le realtà più differenti da noi abbiamo un problema un problema in Italia il problema in Italia è che le realtà diverse sono totalmente fuori dalla palpabilità giornaliera che finiamo per ascoltare con le teste di minchia della Meloni o della o di Salvini o di quello che è con una totale comprensione verso le persone che non conoscono la diversità e molto spesso fanno uno sfogo personale di queste realtà politiche stare a contatto a Milano con la diversità in cui siamo tutti insieme è una grandissima sensazione perché riusciamo a capire che il mito di Nazione non vale niente la Nazione al di là del successo dell'Italia di quest'anno o di tutte le cose che ci portiamo appresso al mito è un mito recente è giovanissimo e ha da essere inclusivo prima della Nazione tu potresti guardare me io potrei guardare te ci diremmo Latti è normanno è longobardo Fabrizio è algerino è siciliano quello che è noi nella storia non siamo mai stati abituati a fare certe differenze e l'unico modo in cui potremmo farlo in una maniera salutare è con l'inclusività noi dobbiamo difendere i nostri tratti identitari nell'Europa però li dobbiamo difendere in una maniera inclusiva e il modo più bello di essere inclusivi è quello di essere a contatto con quelle stesse realtà che ci hanno ci hanno creato noi non veniamo in una realtà totalmente pulita di italiani che possiamo arrivare a un ceppo in cui c'è un lineaggio che arriva qua o quello che è questi sono dei miti che riservo a questi partiti di pseudo destra miserabili che avevano in Italia noi siamo il prodotto di tantissime realtà e nel modo stesso in cui gli italiani si esprimono risalta questa diversità assoluta che è la nostra libertà e la nostra curiosità quindi Milano oggigiorno rappresenta paradossalmente dopo gli anni 60 di razzismo verso i meridionali o quello che è Milano oggigiorno rappresenta l'ultimo bastione che abbiamo di libertà italiana democratica inclusiva che non ha niente a che fare con Italia viva o con questi partiti questi siamo noi prima di emanciparci in un partito siamo noi noi siamo come dire siamo un misto di culture diverse che oggigiorno paradossalmente trovano emancipazione probabilmente solo a Milano ora hai fatto un intervento bellissimo mi fa piacere tu hai ben ricordato i tempi in cui ci sono tanti video su YouTube quindi vi invito a farvi un giro guardarveli in cui i meridionali erano trattati come appestati praticamente quindi si davano i garage le soffitte le cose ma non è un luogo comune ci sono video che attestano a queste situazioni in cui e anche chi davi garage era un caricevole alla fine andava in garage non era neanche colpa loro no infatti era anche una persona di buon cuore che dava un'opportunità era un sistema a un terrone che chissà che magari avrebbe potuto fare qualcosa di buono no era colpa loro ma era l'ultima punta di un sistema esatto hai detto bene sì 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 infatti non volevo condannare come dire la persona in sé però è un mondo in cui appunto chi dava un'opportunità in sé per sé magari si sentiva qualcosa in più che eccetera ma in un mondo in cui non c'erano tante opportunità ed erano gli extracomunitari di una volta cioè il meridionale era quello che magari oggi parallelismo in proporzione visto come l'extracomunitario quindi la persona che oddio arriva da fuori o chissà cos'è viene qui ruba mangia eccetera prima poi di approcciarla come una persona e quindi capire che in quanto persona non c'è niente di scritto prima però questo è un aggiornamento che veniva dopo quindi all'epoca ancora c'era hai fatto bene a partire da lì perché fa specie vedere come in quello che all'epoca era questa barriera e quindi da questo punto di vista c'era più discriminazione a Milano che tutto il resto d'Italia perché nel resto d'Italia di fatto molte volte non c'erano questi confronti non c'erano persone che venivano al sud non si fermavano nella provincia andavano a Milano perché Milano era la città che poteva offrire di più quindi paradossalmente la discriminazione era più a Milano che nel resto d'Italia adesso invece Milano è una città che può includere di più che tutto il resto d'Italia perché può essere appunto il punto di approdo libera di questi preconcetti perché li affronta da anni e li ha vinti non in assoluto ma in diverse battaglie e situazioni è riuscito ad andare oltre e qui quindi è un punto in cui possiamo ripartire possiamo sentirci Europa da questo punto di vista l'extracomunitario qui è diventato tessuto sociale eh sì ed è diventato più tessuto sociale qui che nel resto dell'Italia secondo me assolutamente ma questo è un dato è un dato di fatto quando su Facebook leggiamo le battute le gag le risorse non sai questo filone in cui è nato in cui non mi ricordo chi fu il ministro di cui parlò l'immigrazione è una risorsa adesso mi sfugge il nome ma non non lo dico perché non ne voglio parlare ma perché mi sfugge il nome e nacque questo filone di contronarrazione in cui si è dovuta sfottere questa cosa dicendo ah 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 le nuove risorse quando c'è un extracomunitario che fa un qualcosa di sbagliato ah ah le nuove risorse tipo queste sono le risorse come se in assoluto perché gli italiani sono positivi in assoluto cioè vogliamo dire però vabbè fa parte del gioco delle cose in cui noi abbiamo esportato a livello mondiale una criminalità organizzata che a livello di altre realtà mondiali gli dà quattro giri quindi noi non possiamo permetterci ogni giorno nelle narrative dei telegiornali di dare questa esclusiva ai extracomunitari nonostante i telegiornali le facciano queste narrative qua noi sostanzialmente non abbiamo la possibilità di dare a loro l'esclusiva quindi sostanzialmente dobbiamo riappacificarci col fatto che siamo in ritardo rispetto ad alcune nazioni europee e dobbiamo farci un callo su questa cosa qua è il futuro i popoli migrano la gente vuole soltanto vivere e trovare lavoro la gente vuole vivere eppure ci sono delle narrative sociali di telegiornali asserviti ai partiti che vuono dare una narrativa diversa di questa cosa qua ma alla fine si tratta a livello statistico atti corregimi se sbaglio di una cosa anche piuttosto irrisoria ma sì è così noi stessi siamo dietro a menarcela per queste cose ma noi siamo andati decine di migliaia di italiani in sud America o in altri posti del mondo quando in Italia non c'era lavoro cioè noi siamo stati il sud del mondo e sud del mondo in senso sempre relativo siamo stati noi il popolo da cui si scappava si andava via e che abbiamo colonizzato altri posti in America siamo stati trattati piedi e corna non so che si possa dire piedi e corna ma trattati male maltrattati vittime di di razzismo proprio siamo stati vittime noi di razzismo in Italia adesso ce lo vogliono fare dimenticare ci vogliono fare dimenticare questo ma quando in Argentina negli Stati Uniti è pieno di italiani ma perché è pieno di italiani ma non perché sono cresciuti come i funghi per lo stesso diritto umano per lo stesso diritto umano di trovare una realtà migliore che scavalca la politica e i confini politici è la stessa cosa assolutamente naturalmente il rispetto assoluto per le leggi per il fatto che ci siano dei immigrati clandestini o quello che è il rispetto assoluto però la campagna politica che è stata fatta rispetto a coloro che non potrebbero entrare perché rappresentano una minaccia è la più grossa barzelletta del mondo perché perché c'eravamo noi lì e prima del mito delle nazioni noi eravamo lì noi siamo fatti dalla stessa commistione sanguinea di quelli che adesso vogliono dividere il sangue vogliono creare l'originalità dei popoli vogliono portarci a un Giuseppe Verdi favoloso quello che è che va bene che è bello nella musica però ci vogliono riportare uno stato di primitività mentale che trascende dai discorsi politici la Meloni ti chiedo scusati ma la Meloni Salvini possono fare tutti i discorsi incredibili del mondo possono avere ragione oggi e torto domani non importa se hanno ragione oggi o torto domani avranno sempre torto perché scavalgono una realtà sociale in cui i popoli migrano e i popoli cercano la libertà qualcuno potrà fare dei discorsi tipo va bene ma dovremmo rispettare le leggi ma possiamo rispettare le leggi assolutamente ma c'è un solletico allo stomaco del nemico che non ci fa onore perché noi siamo le stesse persone noi siamo noi siamo solamente l'ultimo prodotto di una realtà generazionale di chi se ne è andato e non importa se Enrico Atti di Cento o Fabrizio Marciante di Sciacca in Sicilia non importa noi siamo qui siamo qua adesso il motivo per cui siamo qua è un sacrificio di quelli che c'erano prima e questa realtà di nazione insulta totalmente la storia ma hai già detto tutto tu nel senso che scusa no ma io spero che qualcuno in cuffia stia sentendo questo rumore del condizionatore da fuori dalla finestra no perché è un rumore vero anche qui voglio raccontare il background di queste dove siamo dove siamo siamo a Milano in via Antonio scorza con una finestra aperta scorza o sforza scorza ma dovrebbe essere sforza ma chissà che non sia scorza cercatelo su google divertitemi però c'è un rumore di un condizionatore della finestra che è un rumore vero perché chiaramente abbiamo acceso un po' l'aria recondizionata però ci piaceva l'idea della finestra aperta prendere i rumori della strada e quindi era un tocco di vero non uno studio di registrazione noi siamo abituati a sentirci in chiamate su skype invece qui ci sentiamo proprio con i rumori veri della vita della strada è tutto come ha detto Fabrizio è la realtà delle cose delle persone è assurdo il negare quelle che sono le nostre identità di persone che sono andate che sono tornate che torneranno ad andare strumentalizzare queste cose per una parte per l'altra non lo so è surreale quando non so neanche cosa aggiungere nello sport nello sport è la cosa più bella del mondo l'idea di nazione nello sport sopravvive attraverso le esageratezze che appartengono allo sport possiamo vivere tutte quelle cose per cui siamo cresciuti appartengono l'odio per la squadra opposta quello che tutto appartiene sarei stupido nel pensare che non abbiamo maturato in noi essendo nati in Italia un desiderio di appartenere però deve essere inclusivo fuori dallo sport non può essere esclusivo è la natura dello sport io immagino che la voglia di strafottere un inglese o un francese per la sconfitta debba esserci debba essere gustosa poi per italiano chiaramente come forse anche per i francesi e gli inglesi lo sarebbe in altri confronti però deve nascere e finire in quella natura sportiva in cui finita quella natura lì deve subentrare la natura umana e quindi essere solidale a prescindere verso altre persone quindi ok ti dovrò sfottere per la tua sconfitta però ti aiuterò sempre per quello che è la tua natura umana e la tua necessità è surreale quando sento parlare di io soli sportivo che forse in un tentativo di voler essere inclusivo risulta ancora più discriminatorio perché sembra quasi che questa come dire diritto di cittadinanza subentri solo se tu hai determinate capacità in ambito sportivo a una certa età e invece ripeto con determinate caratteristiche ma perché se uno è bravo a scrivere se uno è bravo non so uno bravo al tornio che sembra strano dire bravo al tornio però magari ha già quella mentalità in cui capisce che beh a me la vita da operaio a me non mi dispiace perché non deve avere diritto ad avere una cittadinanza no sembra che deve saltare in alto bene allora beh vabbè sei bravo te la diamo e quindi spero che questa cosa qui dello Ussoli in ambito sportivo proposta che si è fatta in questi giorni possa essere lo spunto per arrivare a uno Ussoli che possa essere uno Ussoli dei fatti in cui beh è nato qui ha un qualche genitore qui da un pezzo sono anni che è qui ma perché stiamo a controversare ma cosa dobbiamo stare non lo capisco ma anche perché ripeto vabbè forse sarebbe argomento di una puntata intera però da un lato sicuramente c'è una situazione complessa dall'altra oggigiorno quello che accade perché purtroppo tanta gente non lo sa ci sono persone che magari non parlano adesso una delle più gettonate statisticamente non parlano marocchino non sono mai stati in Marocco il nome non è marocchino il cognome magari non è marocchino comunque eccetera però i genitori sono marocchini e quindi quando i compagni di classe vanno in gita all'estero non ci possono andare perché sono sono marocchini in Italia e quindi non hanno diritto a uscire perché non hanno documenti non hanno permesso di soggiorno e arrivati ai 18 anni diventano clandestini praticamente e quindi ogni anno devono fare un permesso di soggiorno straordinario questa è la condizione che è disumana per persone che magari parlano di eletto milanese e lo dico anche come caratteristica folcloristica magari votano anche Salvini votano Lega ma lo dico per ridere però per far capire che siamo in un contesto in cui persone magari non hanno niente del proprio paese di origine però si trovano prigionieri appolidi appolidi di fatto sono appolidi e quindi non è che vogliamo regalare la cittadinanza italiana a chiunque appoggia un piede qui però è giusto che andiamo a normalizzare una situazione in cui ci sono persone che si trovano schiave o vittime o prigioniere di questo paese senza però averne la cittadinanza vogliamo rispettare in assoluto le leggi della clandestinità o quello che è non siamo contro questa cosa qua siamo contro il messaggio politico che non ci piace a noi non piace il messaggio politico di questa cosa qua in cui siamo in una strada siamo come dire siamo tutti fratelli da un punto di vista a un certo punto come dire dovremmo cercare di capire perché l'altra persona è arrivata qua questo è un lavoro delle autorità però il messaggio politico che vuole solleticare allo stomaco che prima divideva l'Italia al nord e al sud adesso ci deve trovare un altro nemico perché queste realtà politiche vivono di nemici non vivono di identità a sé vivono di nemici noi non sappiamo di che farcene e tornando a Milano Milano secondo me rappresenta al giorno d'oggi nel panorama italiano nella passeggiata in piazza o in piazza cinque giornate o quello che è rappresenta a livello vivo una commistione che insulta queste idee politiche non le vuole ma queste idee politiche sono già insultate al confine sud a Lampedusa a Lampedusa non ci sono i soldi per andare avanti c'è un tasso di disoccupazione incredibile eppure quei pescatori portano a casa delle persone portano a casa più persone di quanto non faccia Malta quindi noi sostanzialmente a livello individuale noi abbiamo una propensione al prossimo è la politica che ci vuole dividere e Milano da questo punto di vista rappresenta un baluardo di espressione individuale di dedica al lavoro che è favolosa vogliamo parlare un po' di un servizio al bar ma è favoloso è qualcosa di totalmente effettivo da sempre adesso ci ricolleghiamo un po' all'inizio cioè Milano per noi ma anche del nord perché io insomma come dire se mi devo catalogare anche io ormai perdo i termini dell'italiano tra nord e centro sud mi vado a inserire nell'ambito nord però Milano ha sembrato questa idea della catena di montaggio del senso estremo del lavoro e quindi Milano è l'espressione massima della dedizione al lavoro dell'organizzazione eccetera quindi il mito ma lo dico anche facendo una sorta di non so dire se outing o coming out non so queste due funzioni mesi in questo caso però l'idea di Milano come estremizzazione l'ho anche vissuta come pensiero negativo dell'idea di oddio finisco in certi ambiti a trovarmi inseriti in una multinazionale con sede in Italia lavorare macinato da questi ritmi da queste cose quindi anche anche sui risvolti negativi però sicuramente a questo come dire questa sorta di efficienza europea mettiamola qui tra virgolette però pratica reale in cui effettivamente si arrivi mi ricollego a una cosa che ho detto prima ma non perché voglia fare come dire una sorta di mettere le esperienze personali all'interno del calderone ma certo però sono le esperienze personali che ci formano che ci rendono quello che siamo mia moglie è polacca effettivamente quando uno vive personalmente una serie di di cose di balzelli di step di cose che sulla carta magari ci sono semplicemente da fare però diventano anche discriminatori volendo e comunque stiamo parlando di Polonia stiamo parlando di Unione Europea ci si rende conto di quante cose ci siano comunque da fare o da battere per arrivare realmente a o l'integrazione sì di quanti muri ci possono essere quindi da una parte da quello che dici tu c'è questa realtà europea che è molto sulla superficie e poi ci sono le dinamiche umane di come interagiamo tra di noi e da questo punto di vista siamo molto più lenti siamo lentissimi e per quanto Milano sia come dire se vogliamo capostipite comunque capofila comunque il posto più di integrazione che abbiamo in Italia comunque non si abbastanza e dietro si porti una serie di posti di realtà di situazioni in cui siamo veramente lontanissimi e indietrissimo e però ci si è da fare questo cammino da questo punto di vista di quello che hai detto differenze tra Bologna e Milano Bologna può competere un po' nel suo piccolo? qualcosa sì qualcosa sì Bologna può cercare di guardare alla dimensione milanese però Milano ha un numero di abitanti un numero di realtà per cui Bologna fa fatica a competere Bologna può tentare da un punto di vista come dire come sfida sicuramente deve cercare di avvicinarsi avvicinarsi a una Milano per quanto magari Bologna sia un po' vittima di certe dinamiche come dire di città universitaria studentesca in cui si è difficile uscire da certi parametri però è una sfida che deve prendere deve cercare di portare avanti di avvicinarsi per quanto come dicevo il numero come dire totale di abitanti porti Bologna su una realtà diversa rispetto a Milano la realtà politica di Bologna che il fatto che sia tradizionalmente di sinistra porta un pochettino più l'avvicinanza a Milano proporzionalmente nel senso di come dire di integrazione o quello che è sì da un certo punto di vista sì dall'altro al tempo stesso vuol dire Milano un po' certe dinamiche se vogliamo più fattuali più concrete più pratiche più se vogliamo multinazionali più economiche economistiche mentre a Bologna rimane molto la teoria a volte del sì soprattutto centro città a volte è difficile anche perché le aziende magari mettono poi sede fuori cioè centro di Bologna insomma è molto a vocazione turistica no ci sono magari molti non so negozietti locali eccetera posti per universitari airbnb per studenti o non per studenti però realmente certe dinamiche vanno fuori dal centro di Bologna quindi fate fare una domanda io sono stato qua molte volte da visitatore come te ho avuto l'impressione che Milano a parte il posto in cui siamo oggi che è vicino ai Navigli o certe altre aree che sono molto più aperte al camminarci al pedalarci o quello che è Milano ha questa sensazione di blindatezza un po' è un po' blindata nel senso che ha un'architettura favolosa perché Milano potrebbe rappresentare dal punto di vista del razionalismo italiano di certe sperimentazioni architettoniche un museo all'aperto anche per la manutenzione perché è una manutenzione degli edifici che tu potresti farti una passeggiata e scoprire tipo delle realtà architettoniche favolose da Joe Ponti a realtà di razionalismo italiano a come dire brutalismo quello che è però Milano ha come dire un fattore in più perché c'è un livello di manutenzione probabilmente maggiore rispetto alle altre realtà italiane però allo stesso tempo allo stesso tempo comunica un un sentimento di blindata è come una croma blindata Milano ha questi cortili bellissimi però ha tipo un'impenetrabilità delle strade non è l'Emilia non è Bologna non sono i mattoni rossi non è il campanile Milano è finalizzatrice a livello di lavoro a livello di stipendi difficoltà di viverci al centro quello che è però ha questo luogo comune trasmesso nell'architettura in cui è blindata cosa ne pensi? beh è vero questi giardini tra l'altro non solo diffusi a Milano o in Lombardia anche in Emilia ci sono alcuni giardini stupendi però privati sempre adesso sono contento perché in particolare a Cento ma in altri posti sta partendo un po' un filone con il quale si cerca di restituire la città a questi posti del tipo ok è un giardino privato di proprietà mie eccetera però di fatto a me questa proprietà cosa mi dà? perché non ridarla alla città poi tramite mille come dire format o formati che possono essere la bigità guidata all'accesso libero però io cosa me ne faccio ad avere un giardino chiuso per me quando poi magari non ci vado per un mese quindi ridiamola alla città consentendo l'accesso non l'accesso libero perché libertà non è l'assenza di regole no? questa è una cosa che dovremmo imparare a 14 anni ma evidentemente non le faremo a 14 anni ed è un bel filone perché ci sta ridando tanto possiamo ridare dei posti che abbiamo perso e quindi per tanti anni ho fatto l'esempio dell'Emilia per dire qualcosa che è diffuso nel nord non soltanto in Lombardia alcuni posti sono stati tenuti chiusi anche se vogliamo per una sorta di egoismo architettonico non so neanche se sto usando le parole a livello autoreferenziale di come dire di sperimentazione architettonica sì di conservarvi in qualcosa per me me lo posso permettere di prendervi però fuori dall'idea della città esatto dell'insieme esatto perché l'Emilia è più sociale è più attraversata dalle persone Ferrara sì l'Emilia sta un po' più collaborativa se vogliamo popolare adesso però comunque su questo filone sta un po' riprendendo così come dall'Emilia anche dalla Lombardia un po' l'idea di ridare la città il che non vuol dire che deve diventare pubblico magari rimane di proprietà privata però può essere di fruizione pubblica anche un po' di privato aspetta ti faccio una domanda ho capito quello che vuoi dire ti faccio una domanda diretta le sensazioni di Milano al di là dei navigli o di altre zone di cui potremmo parlare che sono molto aperte al pubblico sono molto giovanili sono molto attraversate a livello pedonale Milano non ti dà una sensazione di blindatezza nel centro o di impenetrabilità di roccaforte però anche nel passare le strade di cemento di acciaio che invece non ti dà l'Emilia sì 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 parecchio ma in questo guarda vorrei svio un po' però chi ci ascolta secondo me avrà piacere di questi pipponi periferici io ho sempre avuto questa idea di Milano come forse tanti come questo avamposto della produttività come posto industriale sì la capitale dell'efficienza del lavoro come tanti giovani in Italia ma non solo del nord in generale Milano è sempre stata questa capitale produttiva e forse per il periodo in cui l'ho visto perché tante volte il periodo storico influenza l'idea che abbiamo di certe cose che vediamo e il video di adesso ho il lapsus anche non ricordo anche il nome del singolo però è un singolo che trainavo un album best of dei subsonica 2008 potrebbe senza vento ma non sono sicuro che sia quello il titolo nel video c'era un brano non uno dei migliori dei subsonica però un brano comunque insomma è più il video che ricordo che il brano e questa persona che si svegliava con questa partner in casa sua di lei di lui non si capiva bene ma non aveva importanza perché comunque davvero quello di una persona che viveva per a oltranza come dire in cui si svegliava in questa partner che non cagava più di tanto nel senso che si infilava in macchina andava in ufficio una vita nervosa stressata tornava a casa mi ha lasciato sempre fatto molte impressioni questo che si addormentasse in questa ciotola di riso lasciata a metà tutto sul divano ma una scena anche molto miserabile no e io d'ecco di Milano più o meno ho sempre avuto questa immagine questa capitale molto libertina come dire meta del non so questa piramide anche un po' forse per l'epoca in cui siamo cresciuti in cui come dire noi siamo io sono ancora della generazione in cui i figli dovevano far meglio dei genitori no in cui quindi era automatico che dovessimo fare di più guadagnare di più avere una carriera migliore solo per il fatto che eravamo figli era una questione generazionale esatto non era perché io fossi migliore o peggiore ma in automatico un'esigenza di zeitgeist esatto un'esigenza di sviluppo quasi io devo far meglio dei miei genitori ma io come i miei amici come tutti insomma dovevamo far meglio e Milano in questo era come dire il terreno fertile noi dovevamo tra virgolette andare poi potevamo anche stare a Bologna però come dire era una meta naturale del fatto che Milano essendo questa capitale del progresso rappresentava l'apice esatto poi ci poteva far meglio anche da stare a Bologna però era normale che si andasse a Milano a far meglio e questa una delle prime visioni che ebbe in questo video raccontava un po' di questa cosa in cui ok magari sì c'era un meglio ma meglio su che cosa magari uno stipendio migliore una carriera migliore ma alla fine il personaggio protagonista di questo video che tra l'altro guidavo una Nissan Micra come quella che guidavo io un lato personale che mi ha sempre colpito molto macchina molto umile comunque alla fine questo meglio dov'era? cos'era questo meglio? come dire e quindi questo mi ha segnato perché uscì nel 2008 insomma avevo circa 24 anni quindi quell'epoca in cui si è ancora fertili e quindi mi ha sempre messo questa pulce nell'orecchio e tipo dire beh Milano però però avevi questa pressione per Milano un po' sì c'eri cresciuto in questa in questa idea di Milano che abbiamo tutti perché Milano rappresenta la città più smerdata a livello no Milano è grigia o quello che è c'è la nebbia piove però allo stesso tempo rappresenta come dire il parossismo della della libertà non mi stupisce il fatto che da piccoli in semplificazione vedevamo Milano come come l'apice di questa cosa qui e ancora sì assolutamente hai ragione il punto di riferimento penso poi aspetta io non voglio non voglio distruggere quel ragionamento che facevi tu ci sono dei contro in questa cosa qua tu sviluppavi i contro quali sono i contro di questa cosa qua di questo sogno milanese hai già detto bene tu nella parola sogno milanese è un sogno esatto da una parte si sogna qualcosa poi la realtà riporta un equilibrio che che altro che non è soltanto quello che si immagina che si sogna ci sono questi lati negativi questi lati non so dello svegliarsi alle luci dell'alba per prendere la metro per andare in ufficio a a snervarsi a fare gli straordinari non pagatele alle nove di sera quindi ci sono una serie di realtà con un problema solo ti chiedo scusa che ha un problema di non trasmettere non comunica non comunica come altre realtà c'è un silenzio di libertà che ti lascia escluso c'è un silenzio di libertà che ti lascia escluso ma è meglio del chiasso omologato beh hai detto una cosa impegnativa però però è vera alla fine mi ricollega un tema non so quanto vero quanto romanzato un po' i mesi no dello smart work in Italia quindi l'idea del torno nel mio paesino lavoro da internet perché tanto non si può fare niente nelle città siamo tutti chiusi in casa quindi torno nel paesino per spendere meno è esplosa questa moda anche rilanciata del south working quindi l'idea del torno nel paesino al sud che non spendo un cazzo e comunque lavoro via internet al nord eccetera e un articolo interessante poi magari anche molto romanzato se vogliamo però ha buttato un punto di vista secondo me importante al di là di come si è stato esposto cioè alla fine da questi paesini del sud tra virgolette perché poi è un sud metaforico perché poi è un sud del nord anche con la parola sud parliamo anche di tanta provincia del nord perché non è un sud geografico assolutamente tanta gente è scappata è andata proprio scappata non è un termine regalato è scappata per un discorso di mentalità di persone quindi l'idea del ah che bello non spendo un cazzo di affitto vado al bar con la pasta buona e mi guardo il mare ma se mentre tu sei al bar e uno al bar ti racconta delle stronzate tu non ci vuoi stare lì quindi bello bello il mare visto però la verità è che tanti se ne sono andati via dal sud e con sud faccio un sud ampio e cito sud perché si parlava di south working ma sud potremmo proprio parlarne come provincia perché c'è un discorso di mentalità molto ampia dal quale si ce ne si è andati e da tanti posti di provincia è bello ma è bello in vacanza perché la mentalità è quella che ci ha spinto ad andarcene e al tempo stesso ci spinge a non voler ritornare lì perché per quanto ci piaccia sia bello a come dire a bocconi a momenti un po' così singoli di vacanza però l'idea di fermarci lì ci soffoca perché c'è un discorso di mentalità di vita in cui vanno bene due settimane tre settimane un mese ma di più ci limita quindi non è soltanto un discorso di opportunità l'idea di dire mi sono trasferito a Milano ma è anche un discorso di affinità poi giuste sbagliate eccetera che tante persone sono sentite più vicine a questa mentalità di Milano che di quella di potrei dirti Terni potrei dirti Napoli potrei dirti Palermo Palermo Matera Treviso Treviso anche Treviso si si hai fatto bene Zocca beh Zocca è molto piccola per parlare di una città no va bene però hai fatto dei esempi totalmente meridionali si esatto Udine ma tu hai già risolto hai già risolto quando hai detto che il sud era un appellativo non volevo citare una delle prime che mi veniva era Bologna proprio perché Bologna è una delle più se vogliamo aperte ma già Modena Modena la provincia che già come hai detto bene questo è un sud nazionale il sud è un appellativo che descrive la sedimentarietà delle idee potrebbe essere in qualsiasi campanile italiano quello che è e Milano da questo punto di vista rappresenta un grado di libertà e di e di respiro prima dell'Europa di respiro che a cui dovremmo fare riferimento nel cambiamento della nazione dopo di cui io non voglio neanche fare discorsi di cambiamento della nazione perché io ti dico una cosa io sono molto radicale io vorrei che questa idea di nazione sopravviva e muoia allo stesso tempo è un ancora ai piedi questa cosa qua che dà adito a certe realtà politiche comunque sarebbe bello ti interrompo io stavolta come dire che i nostri figli fossero già oltre ascoltassero questa conversazione come un passato storico una vecchia reliquia sì una roba storica di cui non lo so ma loro saranno oltre una discussione della frizione difezzosa dell'Arena 4 esatto però ormai ce l'abbiamo più la frizione loro ascolteranno il rap ascolteranno quelle realtà bellissime che saranno state comunicate quelle realtà bellissime che saranno state comunicate dal vantaggio dell'avere l'inglese nel mondo che ha aperto delle barriere di crescita e di emancipazione culturale che nessun altro fenomeno ha aperto come l'inglese queste cose qui io spero che finiscano nella morte generazionale del voto il voto sa da finire non ho più voglia di vedere la vecchietta che va all'edicola a comprare la repubblica per quanto queste cose devono finire basta così erano finite prima che iniziassero e poi abbiamo avuto un sentimento di inazione la realtà è cambiata e ci troviamo così comunque chiudi questo podcast chiudi aspetta lo chiudo chiudi questo podcast Atti hai detto una cosa bella la prendo larga ma cercherò di essere breve insomma hai parlato della paura delle nuove generazioni secondo me hai detto bene perché deve un po' finire questo terrore è giusto che come dire un giovane si prenda la briga di imparare un cambio manuale di prima frizione seconda terza frizione eccetera eccetera così come noi smettiamo di avere paura di determinate cose bisogna imparare ad apprezzare queste cose senza che per forza debbano far parte del nostro quotidiano non credo che per dire bisogni conoscere tutto il nostro passato le cose per forza per andare al mercato a comprare il pane al supermercato sotto casa non c'è bisogno però bisogna sapere che c'è un passato c'è una storia c'è una cosa che magari si può anche non conoscere ma sapere che c'è e avere questa consapevolezza e avere la prontezza di animo di spirito di volerla conoscere di volerla apprendere se necessario se si capita di mettersi lì senza negarla io credo che questa sia la via sia lo spirito di poter andare avanti di quindi proseguire conoscendo il futuro conoscendo nuove culture nuove cose e quindi ampliando questa Milano come metropoli d'Italia senza dover avere la paura o comunque cercare una restaurazione io vengo sai vengo da cento città possiamo dire città ma molto molto piccola come città in cui da anni è diventato quasi leitmotiv di campagna elettorale questa idea della cento di un tempo di 20 25 anni fa in cui si usciva la domenica in piazza e si passeggiava ed erano tutti centesi e vabbè e quindi cosa vogliamo cioè sparare a chiunque non abbia lineamenti emigliani cioè nel senso qual è il senso di questa idea nostalgica di il mondo va avanti cambiano le cose noi non dobbiamo rivoler portare avanti quell'idea di mondo dobbiamo portare avanti cercare di riprodurre quell'idea di pace di serenità che avevamo ma non per forza con le stesse caratteristiche perché se tua figlia invece che stare con uno di zocca che ci hai dato prima sta con uno che è originario di Casablanca e magari in realtà invece che essere modenese è tunisino tra l'altro potessi dirlo la centese forse è meglio un tunisino con un modenese proprio fare un po' di razzismo territoriale alla modi crescentine appena sfornate però nel senso dobbiamo un po' secondo me adeguarci e guardare avanti perché indietro cosa possiamo fare a guardare indietro ci freniamo qui se guardiamo indietro quindi rispetto alla domanda che mi hai fatto prima di descrivere Milano in una parola io te la dico così perché l'ho maturata rispetto alle cose che ti ho sentito dire Milano è un bellissimo inizio è un inizio che non possiamo permetterci da un altro paese dell'Italia è un inizio che dobbiamo sviluppare ma è un inizio favoloso e questo è molto bello perché si dà è un inizio si dà uno slancio per la vita di noi di tutti i giorni che permette a breve quando chiuderemo questo podcast proseguiremo la nostra giornata però è anche un'opportunità di migliorare Milano è un inizio buonasera arrivederci a tutti grazie e grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi